ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video siamo su Civilization 5 non saluta solo come c'è mister Regus saluta a posto il suo link è in descrizione con gli uomini subito games e sfideremo i nostri geni nemici su una pangea bene andiamo in scuola vero c'è tutta antica e sequenziali in spionaggio bene ole o caccia tipo da quanto vedo salvate in india quasi e quanto vedo se un po' troppo è un bel po' però non troppo io faccio le stazioni miniarie se non te cadene molto bene ragazzi spero che questa serie vi piaccia questa sarà una serie interattiva quindi voi sotto ogni video aspetto attivo uno due giorni così potete commentare temporaneamente e poi con i nostri consigli vedremo cosa fare ok sì 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 sono d'accordo e io porterò tutti gli episodi pari e lui porterà invece di spagna esattamente bene possiamo andare avanti c'è qualcosa che non mi guarda ma tu o mio addio il gioco non ha salvato non ha salvato una cosa che ora se tu vedi siamo solo noi in una squadra il gioco non ha salvato che allora sono eva vesta niente dai non lasciamo così ecco perché siamo molto più lontani ma se chi se ne frega l'importante che rimassa grano poi me ne frega proprio se poi aspetta a me così facciamo insieme in due turni per fare e vedete che aiuto a far la vera si 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 e lo sapevo si sono si sono rubati non sapevo si è rubato un icononimo aveva tanto no ce la faccio la faccia penso bene io faccio nuota e tu fai lo scrittura o troppo per animali cilio tanto ragazzi noi salviamo ecco qua dove scattate voi non capite che vi uccido proprio dico fiero poi attacchiamo attacchiamo massacri maledetti vabbè quasi passiamo il turno per saltare per forza come tutta la politica qua di disciplina ho incontrato i giapponesi oh mio dio stavolta sono i mongoli che sono più avanzati dei giapponesi si in questo caso si guarda i miei comuni come sono i fermi impauriti io sono l'ultimo perché perché si basta farà una città proprio vicino all'argento questo bestiame penso la politica nera mandale li più giapponesi maledetto lo aspetta io devo maledire io i moduli scusa vabbè lo stesso ben io ho fatto poi budang e una foresta mentre se in tutunus si ma se facendo i santuari si facendo stone ma vedo che anche ma vedo che anche ma vedo che anche ok il colono è tornato evvivo oh mio dio i miei scout hanno trovato un po' di persone io ho tutte le catene montuose va bene cioè guarda dovete responare a campamento al barbo proprio al sud del sud del sud guarda adesso cosa faccio ah i massacri quindi sta creando gli artieri ti vuole animare uno solo no ok allora che faccio il tempo di artere ah ho scoperto un muratore con le rovine ottimo una cosa in meno si c'è c'ho 75 di punti ma è possibile non min scout allora ricerca cosa faccio vabbè sto facendo ancora una ruota quindi tu potessi fare una scrittura ok si confermo che questa è in india per forza il tutumo non si guarda quei giapponesi ma come ti sorvegliano tipo come i commessi cinesi che nei supermercati come ti guarda fanno cosa fai e i massacati no quasi ricordo all'accampamento si finalmente adesso sono un secondo così tutto a un tratto i video si guarda che forse hai un passaggio ciò non sia lo ciò sia il mondo che forse qua a destra dopo adesso di stoccolmo penso che non lo so ecco è meglio verificare non da che modo la mette qualcosa che non faccia spolano più un accampamento dei barbari qua sotto altrimenti devo sempre mandare un'unità ah beh non ho scoperto una avuta faccio la formazione del bronzo e chiudiamo i video così andremo nell'epoca classica ah un altro un altro accampamento barbari mh interessante ah sì da questa parte dei bronzo stupi no un'azione del bronzo la facciamo insieme ok ragazzi voi non potete capire quanta fatica abbiamo fatto per poter registrare e c'è stato un casino però ce l'abbiamo fatta dai tutto sommato si spera però tutto sommato sembra di sì in effetti facciamo il prossimo turno secondo me i tuoi scout moriranno malissimo anzi no penso che sono troppo un po' un po' un'altra barba interessante ma io faccio un'altra fattoria ok sono terzo no sono secondo no terzo terzo ok ok sei di un punto più superiore dei tuoi nemici mongoni come ti senti con questa notizia boh 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 in realtà sono mi sento forte proprio sì adesso sono a 148 voglio vedere quanto salgo cosa c'è come da dove è stato bello come si dice breve ma intenso ecco attacchiamo questi bang bang green migliori si ok la volazione del bronzo e chiudiamo il video bene molto bene ti mando ti mando interazione diamo dove ah ok pensavo che non è andata prima in attesa in attesa di anti gioco ah sì mandagli agli scalti danno portano io la devo fare scappa eh sì ma hai fatto un panteon sì sì io sì ah eh accetta la proposta eh accetto che devo accettare eh se no eh oh no c'è un problema ci sono degli incini a destra da me eh ma io non sono senza difese eh che ci va lontane vabbè come si io bombardo allora porto via i lavoratori non va niente ah c'è stone age bene a posto faccio ancora faccio un altro al cine e quindi passiamo il turno il giocatore si conosce mannaccia ai mongoli vabbè anche noi ok adesso posso fondare un pantheon facciamo in monarca divina ragazzi che ci confluisce un tempo di punti onestamente i ragazzi e io faccio ottica bene ragazzi però questo sarà nel prossimo episodio visto che l'episodio finisce qua grazie per aver visto questo questo episodio se vi è piaciuto mettete un mi piace commentate così che possiamo vedere i vostri consigli e noi ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.